Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Sasha Romanzova, collegata con noi da Kiev, attivista e vicepresidente del Centro per le Libertà Civili. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera Beppe Severini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Andrea Gilli, senior researcher del NATO Defense College. Allora, giorno 20 della guerra in Ucraina e da 36 minuti a Kiev c'è il coprifuoco per le prossime 36 ore dopo i bombardamenti di stamattina nel centro della città. Ma che cosa sta succedendo alla capitale ucraina? I russi vogliono prendersela quando e come? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Sasha Romanzova, allora da poco più di mezz'ora a Kiev, da dove lei è collegata, c'è un coprifuoco di 36 ore perché stamattina ci sono stati i bombardamenti che hanno mirato al centro della capitale. Lei teme che i russi vogliano prendersi Kiev e crede di più in in una soluzione negoziale o in una soluzione militare? Buonasera, al momento mi trovo a Kiev. Non è la prima volta in cui ci troviamo in una situazione di questo genere. Siamo abbastanza preparati, eravamo già preparati. In questo momento mi trovo in un luogo in cui c'è un seminterrato, quindi in caso di attacco, di bombardamento mi posso spostare. Al momento ho dovuto spegnere alcune luci, tenerne accese solo alcune solo per parlare con voi. Lei mi chiede se temo che i russi possano prendere la capitale. Sappiamo che c'è questa possibilità, sappiamo che è la loro intenzione. Abbiamo paura? No. Siamo preparati a questo. Kiev sta resistendo. Abbiamo una serie di strutture fortificate all'interno delle strade. Non si può uscire e andare dove si vuole attraversare la città. Ci sono dei controlli molto seri. Ci sono dei posti di blocco ovunque e molte persone che stanno cercando di difendere la città. Per noi è una guerra. È una guerra non perché volevamo essere messi in questa situazione. Ci stiamo semplicemente difendendo. Stiamo difendendo la nostra città. Stiamo difendendo la nostra terra, il nostro paese. Perché i russi hanno deciso per noi quello che deve essere il nostro futuro. Non abbiamo paura. Siamo pronti. Marco Travaglio, hai sentito la testimonianza di Sasha da Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky ha ripetuto che ci vorrebbe una no-fly zone, che l'Occidente e l'Europa non stanno inviando abbastanza armi, non stanno in sostanza facendo abbastanza. Però ho detto anche un'altra cosa molto importante. Per la prima volta da quando è cominciato questo conflitto, quindi da 20 giorni, ha detto che l'Ucraina deve prendere atto che non entrerà nella Nato. Sta cambiando qualche cosa anche nella comunicazione di Zelensky? Naturalmente me lo auguro. Ieri sera ero rimasto un po' impressionato dalle parole della vice premier che hai ospitato in trasmissione. Perché se anche depurandole da quella tara necessaria di propaganda erano parole che facevano pensare al fallimento in partenza di qualsiasi ipotesi negoziale. È chiaro che cominciando a dire che l'Ucraina non entrerà nella Nato, si fa un piccolo passo in avanti nella direzione di una soluzione negoziale che può avere cittadinanza soltanto se entrambe le parti rinunceranno a qualche cosa, come in tutti i negoziati durante e dopo una guerra. Quindi certamente quello è un passo in avanti. Il fatto di insistere con la no-fly zone invece è un passo indietro, è il solito passo indietro perché sappiamo benissimo che per quanto potrebbe essere molto utile alla causa ucraina sarebbe l'anticamera della terza guerra mondiale che non io o qualcuno che non conta niente, ma il presidente americano Biden e le cancellerie occidentali hanno escluso recisamente proprio perché sanno benissimo che la no-fly zone significherebbe un confronto in aria tra aerei occidentali e aerei russi e quindi il coinvolgimento della Nato nel conflitto. Certo, anche la Nato lo ha escluso, dottor Zilli. Diciamo che Zelensky si dice da una parte che bisogna prendere atto che l'Ucraina non può entrare nella Nato perché pensavamo che le porte fossero aperte, invece non è così. È vero che dall'altra parte la no-fly zone, gli ucraini continuano a chiederla ed è vero che ci sarà un vertice molto importante la prossima settimana, il 24 marzo, della Nato al quale parteciperà anche il presidente Biden. Quindi diciamo con tutti questi elementi che cosa può rispondere, dire, come può rassicurare la nostra dottoressa Romanzova che è collegata con noi da Kiev. Grazie dell'invito. Io purtroppo non posso rassicurare, anzi mi dispiace della sua situazione che è drammatica ed è ovviamente una situazione molto difficile. Ciò che è chiaro è che l'Ucraina è una situazione difficile e fondamentalmente c'è una politica di bargaining, quindi fondamentalmente di contrattazione militare a questo punto e il futuro del paese, incluso anche la sua libertà, il suo futuro politico dipende dal campo di battaglia. Io non sono sicurissimo che la no-fly zone non sia così necessaria, nel senso che finora la Russia fondamentalmente ha usato mezzi di terra, quindi l'uso dell'aviazione è più limitato. C'è da dire che la Nato fondamentalmente, parlo a titolo personale e le opinioni sono mie, non della Nato e del Neto Defense College, fondamentalmente difende in questo momento il fianco est per evitare un allargamento del fronte. Allo stesso tempo tutti i paesi occidentali in generale, ma non solo, stanno fondamentalmente cercando di lavorare al tavolo diplomatico per portare a termine questo conflitto che ha già creato tantissimi morti e soprattutto tantissimi rifugiati. Beppe Severnini, mi scuso perché l'ho chiamata Dottor Zilli, invece è Gilli. Beppe Severnini, facciamo troppo poco per l'Ucraina? Le sanzioni questa volta sono serie, sono tante, sono pesanti, però ci vuole tempo. Le armi io non sono in grado di dire se ne diamo abbastanza, però confesso che non riesco a iscrivermi nel partito che sta aumentando, di quelli che dicono in sostanza agli ucraini arrendetevi. Noi abbiamo qui Sasha, io né a lei né a nessuno mi sentirei mai di dire una cosa del genere. E invece in Occidente, secondo me perché l'idea di una resa dell'Ucraina e della fine della guerra fa passare l'ansia a noi, però noi l'ansia dobbiamo farcela passare in un altro modo, mi dispiace. Sono loro che devono decidere del loro destino e io per quello che stanno facendo provo moltissima ammirazione, come penso centinaia di milioni di europei. E poi oggi sono stati tre primi ministri, capi di governo dell'Unione Europea. Sono arrivati questa sera a Kiev, sì, in treno. Esatto. Lilli, secondo me questo è un grandissimo aiuto. L'Unione Europea non ha i carri armati, ma è forte. E questo è un aiuto morale e anche politico. Io ho sentito il Papa, io ho apprezzato, il Papa non ha detto la guerra che è brutta, ha parlato di aggressore, di aggressioni. Io credo che è stato invitato a Kiev, io penso che ci ha già sorpreso quell'uomo lì. Io vedere il Papa Francesco a Kiev, io penso che sarebbe veramente un cambiamento e un aiuto vero. Ecco, tutto questo si può fare, credo che ci vorrà tempo e sarà faticoso, però ci stiamo provando. Un'ultima cosa, la stiamo provando, lo dico a Sasha che ci ascolta, anche a raccontare. Molti colleghi sono lì, alcuni purtroppo sono stati feriti. Oggi un cameraman americano, una producer ucraina hanno perso la vita. Perfino in Russia, perché questa è la guerra di Putin, non è la guerra dei russi, è la guerra di Putin. E in Russia, pensa a questa giornalista, e mi sono scritto il nome, per non sbaglio, Marina Ovsiannikova, scusate, Ovsiannikova, che è andata col cartello in televisione. Ci vuole del fegato. Ecco, tutto questo è un modo per aiutare l'Ucraina. Sappiamo che non è abbastanza, però sto guardando negli occhi una giovane donna che mi guarda da Kiev, veramente, è tutto quello che posso dire, e lo dico sinceramente. Allora, intanto vi devo dire che mentre ci sono varie città ucraine assediate, ed è sotto assedio anche la capitale Kiev, è uscita adesso la dichiarazione, lo ha scritto su Twitter del consigliere del presidente ucraino Zielensky, che è negoziatore con i russi, che dice che domani continueranno i colloqui con la Russia, è un processo molto difficile e scivoloso. Ci sono contraddizioni fondamentali, ma c'è sicuramente spazio per un compromesso. Quindi vedete che come sempre è un po' tutto il contrario di tutto, sono tecniche negoziali, tecniche di propaganda e naturalmente Marco Travaglio, speriamo che trovino un compromesso al più presto con questa guerra che come ricordavamo ha finito il suo ventesimo giorno. Anche tu pensi, come Severnini, che in Italia stia crescendo il partito di quelli che chiedono all'Ucraina di arrendersi semplicemente? No, c'è una caccia spasmodica del fronte bellicista e bellicoso per fare liste di proscrizione di presunti amici di Putin o del partito della resa, che per ora è una ricerca destinata al fallimento perché non c'è nessuna persona seria con la testa sul collo che abbia mai detto che sta dalla parte di Putin e che Putin ha ragione. Altra cosa sono quelli che dicono che non bisogna mandare le armi, ma lo dicono ovviamente perché come tutti gli analisti militari hanno osservato, le armi non sono in grado purtroppo, le armi che stiamo mandando, non sapendo bene a chi le stiamo mandando, prolungherebbero la guerra, aumenterebbero i morti civili e prolungando la guerra aumenterebbero anche le potenzialità della Russia di mangiarsi territori ucraini dai quali poi sarebbe difficile farla tornare indietro. Questa è la ragione per cui molti sono contrari all'invio delle armi, una ragione pragmatica, non una ragione così irenica da anime belle. In realtà il dibattito è un dibattito di totale retroguardia perché alla gente, come dicevi tu giustamente, interessa sapere quando finirà e tutti sperano che finisca quanto prima nell'interesse del popolo ucraino perché il tempo gioca a vantaggio di Putin e dell'esercito russo, non certamente degli ucraini, visto che ogni giorno c'è un'avanzata lenta ma inesorabile e c'è un aumento del costo in termini di vite umane e civili e di territori perduti e di avamposti anche perduti. Altra cosa invece è dire né con la Nato né con Putin, questa è una posizione secondo me molto condivisibile proprio perché ci hanno sempre detto che è la propaganda di Putin a dire che l'Ucraina stava entrando nella Nato, mentre se è vero quello che diciamo noi occidentali e cioè che mai la Nato aveva pensato di prendersi l'Ucraina, resterebbe da spiegare perché Zelensky oggi ha detto dobbiamo rassegnarci e non centriamo più, ma soprattutto resterebbe da spiegare quello che è successo l'altro giorno, perché l'altro giorno i russi hanno bombardato un cosiddetto International Peacekeeping and Security Center a Yavoriv, a una trentina di chilometri dal confine polacco, è quella roba lì, come la chiamiamo? Perché gli americani dopo l'attacco hanno detto reagiremo, difenderemo il nostro territorio come se fosse loro territorio, quella è Ucraina, non è Stati Uniti e hanno detto noi comunque non abbiamo militari coinvolti, ma si sono dimenticati di avvertire l'ambasciata americana a Kiev che nel frattempo stava twittando un elogio ai soldati eroici, americani, polacchi, lituani, del Regno Unito, del Canada e di altri paesi che addestrano forze ucraine. Come lo chiamiamo questo centro che è stato bombardato e semidistrutto? È un centro Nato, è una base Nato? Siamo andati a vedere sul sito della Nato, quel centro risulta nel sito della Nato dal 1995 e lì si sono svolte varie esercitazioni anche l'anno scorso, interforze delle quali si è molto parlato. Allora il tema non è soltanto se l'Ucraina entra o non entra nella Nato e oggi Zelensky ha detto non ci entra più, ma se la Nato esce dall'Ucraina perché una soluzione negoziale passa attraverso innanzitutto l'uscita dell'esercito russo dall'Ucraina, ma anche dall'uscita della Nato dall'Ucraina, ove mai ci fosse in forme camuffate appunto da International Peacekeeping and Security Center. Marco Travaglio, aspetta che questa domanda la giro naturalmente subito al dottor Gilli, perché è vero che le bombe che sono cadute ieri su questo centro, che è un centro di addestramento militare a Yavoriv che è nella parte occidentale, vicino al confine con la Polonia, nella parte occidentale dell'Ucraina. Lei che cosa ci racconta questo problema? La in serata il Presidente americano Biden ha raccontato che gli Stati Uniti hanno stanziato molti aiuti per la sicurezza dell'Ucraina, per gli aiuti umanitari per l'Ucraina, insomma sicurezza vuol dire anche sicurezza militare. Allora, io non sono qua a difendere la Nato, il mio lavoro è fare il ricercatore universitario. Insomma, immagino che ne sappia un po' più di noi. No, assolutamente, assolutamente, però ci sono secondo me un paio di criticità. Nel senso, do un esempio. Il centro di informazione della Nato, dove si trovava? Si trovava Mosca, è stato chiuso tre mesi fa. Quindi la Nato era Mosca, quindi le truppe russa avrebbero dovuto bombardare questo ufficio che stava a Mosca, è stato chiuso, se non mi sbaglio, il 31 dicembre. No. Come tutte le organizzazioni, semplicemente, scusate, altra parentesi, l'Ucraina è un partner della Nato esattamente come lo è stata la Russia. Cioè, anche la Russia è stata un partner della Nato, poi dopo fondamentalmente il 2008, la guerra in Georgia, poi soprattutto il 2014... Sì, però mi rispetti, la interrompo perché siccome è una cosa della quale si discute da 20 giorni, c'è stato un allargamento a est della Nato, no? Negli ultimi, diciamo, dopo il crollo del muro di Berlino. Ma qua arriviamo a un punto centrale, nel senso che il dottor Travaglio ha detto la Nato si prende l'Ucraina. No, non funziona esattamente così. Nel senso che la Nato è una politica di open door policy, i suoi valori sono scritti... Quindi porte aperte. Porte aperte. I suoi valori sono scritti nel trattato di Washington, ovvero la Nato fondamentalmente si basa sulla democrazia, la libertà, il diritto di stampa e ha questa politica per cui tutti i paesi che in qualche modo condividono questi valori hanno diritto a far domanda di entrare. Poi sta i paesi membri... Come la Turchia per esempio? Come la Turchia che ha chiuso tutti i giornali di opposizione? È quella la libertà di stampa che tutela la Nato? Allora, poi i paesi membri della Nato decidono... Scusi, posso finire? Grazie. Poi i paesi membri della Nato quando c'è una domanda decidono se accogliere questa domanda. L'Ucraina ha fatto una domanda anni fa, l'ha fatta anche la Russia tra parentesi e è rimasta in stand by. E quindi? Ora, ma semplicemente qua non è che la Nato si prende l'Ucraina, è l'Ucraina che ha deciso di entrare. Sono due cose molto diverse. La domanda di fondo, secondo me, è se noi possiamo accettare che ci sia un paese, ovvero la Russia di Putin, che a cannonate decide che un paese democratico, libero, non possa decidere il suo futuro a quel paese, l'Ucraina. Se noi pensiamo che la politica internazionale, chiudo, funzioni a colpe di cannone dove vogliamo negare la libertà dei popoli, secondo me è una posizione legittima che io, semplicemente, non condivido. Non condivido. Allora, Beppe Severnini e poi voglio tornare a Kiev e poi di nuovo Travaglio. Provo a essere molto breve. Io spero che Marco ti sia sfuggito né con la Nato né con Putin. Io sto con la Nato tutta la vita perché appunto è un'alleanza difensiva che ha commesso errori. E beh, io trovo che sia una cosa, allora è una cosa grave da dire in questo momento perché la Nato è una cosa che io sono libero di dire e tu sei libero di non condividere. Scusami, certo, infatti lo stiamo facendo. Ci conosciamo da tempo e su molte cose la pensiamo diversamente. Questa è una. Allora, i paesi famosi per cui Putin è arrabbiato che sono entrati nella Nato ex paesi patto di Versavia? Lo hanno fatto liberamente. Quello che ha detto il dottor Gigli è corretto. Cioè, noi stiamo dicendo che c'è un signore che può impedire alla gente a cannonati di non entrare in un'alleanza. Quindi, no, quello no. Io direi. E poi una cosa ancora, Marco. Secondo me, invece, questa resistenza eroica degli ucraini e spero che non mi becco del bellicista perché questa mi mancava, perché non lo sono. Invece, è esattamente quello che ha impedito a Putin di avere e di ottenere quello che voleva subito. Lui pensava che l'Ucraina fosse una nazione finta perché secondo me non sa neanche cos'è, non ha amici ucraini, non frequenta, non lo so come mai fosse così poco informato su un paese con un carattere così forte. Il risultato? Che non è riuscito a ottenere quello che voleva, ovvero entrare, questi zitti e buoni cacciano Zelensky, lui arriva e fa la Bielorussia 2.0. È proprio la resistenza ucraina che gli ha impedito di fare questo. E se si arriverà a un compromesso e alla pace, tutti ce l'auguriamo anche domani mattina, è grazie al coraggio degli ucraini. Allora Marco Travaglio e poi la nostra Sasha Romanzova. Qual è la domanda? No, la domanda è che tu... Se io sono favorevole al fatto che Putin voglia cacciare con le bombe dalla Nato i paesi che liberamente hanno aderito, questa è la classica caricatura che trucca il dibattito di questi giorni. Io ho sempre condannato il regime di Putin fin da quando Berlusconi andava a strusciarcisi e a dire che era un dono del Signore e tutti in Italia ridevano o dicevano che era un grande pragmatico quando aveva già fatto tutte le sue guerre, aveva già fatto ammazzare i giornalisti dissidenti. Quindi non accetto questo giochino, questo cartone animato, che chiunque dica qualcosa di dissonante è uno che sostiene che Putin può con le armi impedire all'Ucraina di entrare nella Nato. Io vi ho letto semplicemente le cose che hanno detto nella stessa giornata a proposito di quel centro che non sappiamo ancora come chiamare, dove si fanno le esercitazioni della Nato, dove si istruiscono i militari ad andare a combattere, che credo sia un po' diverso dal centro di informazione di cui ci parlava il nostro ricercatore a Mosca. Dubito che la Nato a Mosca avesse un centro che addestrava militari ad andare a combattere contro la Russia, non credo che questo fosse, quindi il paragone lascia ovviamente il tempo che trova. Per il resto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che nel 1990, guarda che non sono discorsi oziosi, perché dato che l'unico dibattito importante in questo momento è come se ne uscirà, ed è quello che si chiedono tutti, nessuno si chiede se in Italia ci sono gli amici di Putin, perché non c'è nessuno che in questo momento abbia mai detto o pensato che Putin ha ragione a fare questa guerra criminale e a risolvere le sue controversie con quei mezzi brutali e assassini. Il tema interessante in questo momento è come se ne esce e per capire come se ne esce bisogna capire come ci si è entrati, bisogna partire dal 1990 quando Jim Baker, il segretario di Stato americano, disse nemmeno un centimetro in più a est della Nato e poi altro che centimetri, di giorno in giorno si sono presi tutto tranne l'Ucraina e quindi ovviamente hanno assediato i russi e hanno fornito a Putin, che è un imperialista da sempre, non dal 24 febbraio del 2022, un alibi clamoroso per fare questa guerra criminale. Come se ne esce? Se ne esce facendo entrare anche l'Ucraina nella Nato? Perché liberamente l'Ucraina vuole entrare nella Nato? Se si pensa che se ne esca così io credo che si esce da una guerra e si entra in un'altra, oppure si decide una neutralità come si è decisa a suo tempo per la Finlandia e per altri paesi che magari avrebbero anche voluto entrare nella Nato, ma la Nato non è un club del tennis o della bocciofila dove uno paga la tessera e comincia a giocare. Per entrare nella Nato bisogna essere invitati e la Nato ha una regola interna che dice che non può entrare chi entrando mette a repentaglio la sicurezza degli altri membri. Questa è la ragione per cui ad alcuni viene detto di sì e ad altri viene detto di no, oltre al fatto che bisogna rispettare almeno sulla carta delle minime regole di decenza democratica che purtroppo la Nato non fa rispettare alla Turchia, che ripeto sta sterminando i curdi che noi abbiamo mandato a combattere per procura al posto nostro contro l'Isis e che ha fatto carne di porco della libertà di stampa e delle libertà occidentali di cui adesso ci riempiamo la bocca perché ci fa tanto comodo, senza contare quello che ha combinato la Nato in ex Jugoslavia e in Iraq e in Afghanistan dove solo in Iraq e in Afghanistan noi occidentali buoni abbiamo fatto un milione di morti. Queste cose vanno dette non per dare ragione a Putin ma per dire che se si vuole fare un passo in avanti bisogna riconoscere quello che è successo in questi anni perché se lo rimuoviamo, se lo rimuoviamo non siamo amici di Putin, siamo nemici della pace e degli ucraini. Allora io vado a Kiev perché voglio sentire Sasha Romanzova. Secondo lei come se ne esce da questa situazione di guerra, situazione drammatica per chi la deve vivere tutti i giorni? Come se ne esce secondo lei? Prima di tutto voglio dire che ho grande rispetto sul fatto che voi state cercando di analizzare la nostra crisi e anche la guerra tra Russia e Ucraina guardando anche a quello che è il conflitto all'interno della Nato in generale. Io non so che cosa sia successo bene, però credo che la Nato abbia delle ragioni e chiaramente abbia dei requisiti per far entrare anche l'Ucraina. Però questo non è il punto centrale, c'è un punto fondamentale che riguarda il fatto che Putin crede che l'Ucraina sia debole. Putin vuole piantare la sua bandiera sul nostro territorio e avere la sua vittoria per delle situazioni interne alla federazione russe. Ma l'Ucraina non è un giocattolino di Putin, è un paese indipendente che vuole la democrazia e vuole un futuro democratico. Per questo stiamo combattendo e per questo per noi si tratta di una guerra che riguarda la nostra esistenza. Non è una guerra sulla Nato o no. Adesso non è il nostro problema. La Nato probabilmente è un obiettivo, sì, e noi cercheremo di fare tutto il possibile di vincere prima di tutto questa guerra e poi cercare di adempiere tutti i criteri per poter entrare nella Nato. Ma adesso stiamo lottando per la nostra indipendenza, per la nostra sovranità, per le nostre aspirazioni democratiche, per i nostri valori. Vogliamo essere una società aperta. Ci sono invece altre società che non vogliono, come quella russa per esempio. Ci sono anche altre libertà e delle responsabilità nei confronti dello Stato, nei confronti degli altri paesi. Questa non è questione di autorità, è questione della nostra popolazione. Io difendo i diritti umani, sono un attivista, quindi il punto centrale non è la Nato o no. Noi abbiamo bisogno di aiuto da parte dei paesi vicini, paesi democratici, i nostri partner dell'Unione Europea, perché voi siete degli esempi, esempi di coesistenza tra i paesi quando c'è la democrazia, quando la democrazia vince. Allora, le faccio vedere anche a lei e anche a voi spettatrici e spettatori il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo fatto fare un sondaggio. Gli italiani che cosa pensano di questo conflitto e soprattutto cosa pensano anche delle sue conseguenze? Guardate. Secondo il sondaggio Demopolis realizzato nelle ultime 24 ore, tre italiani su quattro sono molto o abbastanza preoccupati di un'ulteriore estensione della guerra tra Russia ed Ucraina. Sulla decisione del nostro paese di inviare armi votata dal Parlamento nei giorni scorsi, l'opinione pubblica è divisa. Per il 43% è una scelta opportuna, il 38% è di parere opposto, mentre il 19% non esprime un'opinione. È quasi plebiscitario invece il consenso alla scelta di inviare aiuti umanitari e accogliere i profughi in fuga. Altrettanto netta è la posizione degli italiani sulla richiesta, più volte avanzata dal presidente Zelensky, di una no-fly zone da parte delle forze della Nato sui cieli dell'Ucraina. L'83% degli italiani pensa che potrebbe portare a un'escalation del conflitto e una nuova guerra mondiale. Del resto, in uno scenario senza precedenti negli ultimi 70 anni, quasi 6 italiani su 10, cioè il 58%, ritengono che oggi il rischio di una terza guerra mondiale non si possa escludere. Intanto, come effetto della guerra, l'istituto diretto da Pietrovento rileva la crescita di forti preoccupazioni economiche tra famiglie e imprese per l'incremento non sostenibile delle bollette di gas ed energia, per le tariffe oltremisura di benzina e gasolio, per l'aumento dei costi della spesa alimentare e per gli effetti dell'inflazione sui risparmi e sul potere d'acquisto. In attesa del decreto previsto in settimana, 6 italiani su 10 ritengono insufficiente l'azione svolta fino ad oggi dal governo Draghi per provare a contenere i costi della benzina, del gas e della luce. Per poco più di un terzo, l'esecutivo sta facendo invece il possibile di fronte ad una situazione non prevedibile. Allora siamo in chiusura, naturalmente siete tutti reinvitati in questa formazione perché ci sarebbero molte altre cose da dire, ma adesso c'è Giovanni Floris con il suo di martedì, quindi io intanto ringrazio Sasha Romanzova, grazie Marco Travaglio, grazie Beppe Severnini, grazie dottor Andrea Gilli e ricordo Beppe che è uscito il tuo libro per Rizzoli, un italiano scritto con il generale Figliolo e grazie spettatrici e spettatori, ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo, state con noi.